Quindi c'è proprio, entro in una stanza e tutti quanti fanno, oh, insomma, no, Nick, hai appena detto una cosa orribile comunque, e per fortuna, e voi non avete sentito, aveva detto di fare un po', vabbè, comunque, praticamente dobbiamo iniziare, perché sta arrivando notte? Ma chi ha detto? Nick, metti immediatamente che non può arrivare notte, casa Poppy Playtime contro Casona, e boh, a Serenea, giusto, mi stavo già scordando, lui sarà il terzo incomodo che ci distruggerà tutte le case, questa sarà una sfida veramente figa, perché non l'ho mai fatta così, ah, però devo prendere anche la Yellow Concrete, ok, perché la Concrete Yellow è importante, siccome adesso devo fargli i piedini, io ho qua sotto un'immagine di Poppy Playtime, il che raga, io non so fare le case, cioè, non so fare queste cose, Ok, facciamo così, facciamo direttamente la testa, perché dato che deve essere una casa, chiaramente, mi sembra anche giusto così, diciamo, bisognerebbe concentrarsi appunto sui blocchi qua, io sto facendo intanto casa Topolino, evidentemente, devo scegliere la Concrete, perché devo fare gli occhi al signor Poppy, praticamente, basta a cagare la mia casa, veramente, cioè, No, l'ho fatto io adesso quello No, tu non ti permettere, devi fare oggi Hai rotto coso, Breed Eh, è proprio quello che deve fare, deve rompere, giustamente Eh, no, non deve rompere, sta buttando i burrito No, però non devi rompermi i blocchi, Breed Devi costruirmi qualcosa in più, ho detto, no, rompermi i blocchi Oltre alle palle, peraltro Allora, cerchiamo di far così Così, ecco Nick, allora tu non puoi Non puoi concentrarti su questo, non dargli indizi Eh, vai via, immediatamente, sennò devo chiamarla polizia Ti devo denunciare per sfruttamento Per sfruttamento Sì, perché praticamente tu sei molto pervertito ultimamente Molto sfruttorio Sfruttorio, sì, esatto, è proprio un termine che userei soprattutto in un'aula di tribunale E quindi Chi è Ha fatto il naso di me Scusate, non volevo usare questa parola veramente Oh, ricordatemi di tagliare queste cose, raga Perché io Ricordatemelo È che abbiamo un po' di tagliare Io anche se me lo ricordo, aspetta Breed, per favore Ricordamelo perché ho un po' di parole da tagliare Che qua su YouTube non si possono dire Mi raccomando Allora No, perché poi dopo il signor YouTube potrebbe giustamente incavolarsi Un attimo, esatto Molto arrabbiarsi con te, mi sa Eh, sì Allora, facciamo così Prendiamo questo così Ok E tecnicamente ho fatto i denti Che sono un po' scemi Poverino Scusate che veramente mi fa pena sto Poppy Playtime Raga, cosa Cosa cazzo No, raga, ci ho fatto una sorta di Di Altro che di pupazzo Cioè, secondo me questo dovrebbe essere messo come Poppy Playtime Vai da Nick, non rompe le palle tu Allora No, no, ma io già sono indietro con il Con il lavoro Allora, ragazzi, io Poppy Playtime Io lo farei a tema, ovviamente, totalmente horror E quindi Come, cosa sto facendo? No, ti prego Devo mettere delle luci Lamp Un po' di lampette, eh Tipo Queste qua sono molto carine Però metterò il rosso Perché il rosso è simbolo di aggressività, no? Giustamente Tutti quanti lo stanno Non solo di aggressività Ma anche di Passione Di fervore Di Di cose E Boh, me l'hanno detto a scuola in realtà Poi dopo Non so quanto sia vera No, dai, scherzo Penso proprio sia vera Che cosa stai facendo tu? Battene immediatamente Altrimenti io cercherò La mia furia ulteriore E si abbatterà sull'ulteriormente Dai, ha fatto un altro naso Ma smettila Oh mio Dio Sì, bellissimi Sì, bellissimi Guarda Sembra il clown Dove se l'hai messo? Cioè È un cane praticamente Che si mette il naso dappertutto Diciamo dappertutto Per dire Nei posti di me Posso dire Posso parlare Come mi pare Posto? No No Ah mio Andiamo Cioè Per favore Allora Sto cercando Io ho 251 a zero Io sto cercando di far cose Tu e io non so Però raga Io non so No, vieni fuori No, vieni fuori casa tua No, cosa avete fatto? Mi hanno cagato in faccia Dai Ma che che ha avuto la Insomma La cosa spruzzo Eh, si diverte proprio Nì comunque Continua Guarda che tu Allora Io quando ho finito la mia casa Tu devi aver finito Se hai fatto uno schifo Se hai fatto uno schifo Farà schifo Ma no Ma tu fai schifo Vabbè Quello si sapeva già No, dai Che c'è vera Cattivere Non devo dire queste cose A me stesso Devo prendere in giro A te No, Brid Perché gli stava costruendo I pisellini Sì ma non ti preoccupare Lui insomma È un po' più particolare Capisco che I pisellini Siano sempre Mi piacciono molto No, dai Allora Io questa cosa Non lo so Insomma Poi comunque Giusto Anche se gli piacciono Va bene Assolutamente Noi la accettiamo Per I suoi piaceri Per tutti i suoi piaceri E quindi Che poi in realtà Non sono solo suoi Praticamente Un po' a tutti piacciono i pisellini Dai Insomma Non scherziamo Non giriamoci intorno No Insomma Raga Sta diventando un po' particolare Come istituzione Quindi Mi dovrei star zitto Praticamente Però Dai però Uffa Io voglio prendere Devo fare le cose bene Però qua Non riesco a fare le cose bene Perché qualcuno Mi sta distruggendo le cose Vai via Immediatamente Se no Devo chiamare L'ambulanza Perché Giustamente Mi arrabbierò molto Con te A parte Devi mettere Jorn Ma sai fare Slash game rule Dei life cycle Ma si che l'ho fatto Ma mi sa che non è andato bene E l'ho fatto pure io Ma mi sa che è rotto Evidentemente No C'è veramente E' una cosa Che è vergognosa Chiudo la porta Perché Qua evidentemente Ci sono i mostri Del male Andiamo Mettiamo il frigo Della Di questa cosa qua Poi mettiamo anche Un po' di bombiletti Così E poi ovviamente Ricordiamoci La cosa fondamentale Raga Il blood Il blood È fondamentale Cioè il blood Che sarebbe Tu non metterlo Non usare copiarmi Perché se no ti banno Allora Vabbè Allora Anche si Blood Ti ignoro Perché fai schifo Giustamente Vabbè Guarda Io sono Di una bellezza Straordinaria Naturale Che quando Arrivo in una stanza Le persone Vengono Nel senso Vengono da me Ma nel senso Cioè capito Quindi c'è proprio Entro in una stanza E tutti quanti Fanno Questi versi qua Quindi giustamente C'è proprio Capito No No Rifai un attimo No Non lo faccio più Guarda che Già questo Potrebbe essere Evidentemente Compromettente Infatti voi Evitate per favore Di fare I montaggi strani Con le mie voci strane Capito Ho Vi avvisato E non fate I montaggi strani Di questo video No fateli Fateli E vabbè Se volete farli Fateli Però sappiate Che potrei Mettermi a piangere O a ridere Dipende No scherzo Dai Probabilmente riderò Perché siete simpatici È normale Che io Ho messo Dei comodini Al posto Della cucina Vabbè Ognuno Ha i suoi gusti Giustamente Si mette in cucina Qualche cavolo vuole Mettiamo questo E poi dopo No allora Però io metto Questo qua Perché è rosso Giustamente Ripeto Il rosso Poi qua ci sarebbe Il rosso e il giallo Per la cucina Io so che Il rosso e il giallo Sono molto importanti Per le cucine Non lo so Me l'ha detto Un uccellino Ma deve essere tutto buio Me l'hanno detto Sempre a scuola No Scusa Chi è che ti ha detto Che deve essere buio Cioè quando mai Nei miei video è tutto buio E vabbè Ma siccome È tema horror Magari Eh certo Quindi è tema horror Non si vede più un caso Certo Funziona così Sì Mi sembra giusto Eh sì Che si sa Che nel video è tutto buio Cioè Sì Non ho capito Cosa hai detto Però Si sa che nel video è tutto buio Eh Sì Va bene Faccio Faccio Raga Per favore Scrivete F nei commenti per Nick Perché evidentemente Oggi non ci sta Evidentemente No Non ci sto Perché anche sono indietro Questo fa più horror però Ecco Non essere più indietro Fai qualcosa No Se ando già un po' più avanti In realtà Mi va già più bene Io ho fatto la cucina Abbiamo finito Tu non puoi più rompere le palle Quindi basta Ciao Ok Allora Ma che aspetta Abbiamo finito casa Nick Mi spiace Fine Fine Metti l'ultima cosa Alla tv Metti l'ultima cosa Eh ma devo cercare Ma Muovete Eh proprio No allora Se devi cercare No mi spiace Perché Io non sono qua A perdere tempo Con uno come te Brideshi Abbiamo finito Tu potrai Avere una Sorta di Di pensiero Relativamente a questo Ma non mi interessa No scherzo Dai è molto interessante Questa Allora Partiamo da Casa mia Casa mia Come vedete È una casa molto particolare Perché è piena di Boh Blocchi Come vedete Non puoi più farlo Ok Non vale più questa cosa Se lo fai sei un baro E ovviamente Casa mia è fatta di colori Molto particolari Quelli di cartoon Volevo dire di Poppy Playtime Scusatemi tanto È una casa horror Con una cucina Dove Poppy Playtime a volte Viene a mangiare le uova strapazzate Cucinate da sua nonna Che è psicopatica Giustamente Perché insomma Giustamente sua nonna Non è molto normale Qua c'è il letto di Poppy Playtime Dove ci ha scurreggiato E dove ci ha scurre Scusatemi Veramente È stato troppo E queste sono le luci sue Che praticamente Emanano Un colore Rosso Che distrugge l'animo Perfetto Abbiamo finito Adesso Questo invece Casa mia Ok Parla forte Se no ti blocco Dimmi Allora Qua abbiamo un angolo cottura Molto piccolino Con degli scaffali Qua Il salotto E un letto Oh che bello Wow Bellissimo Però poi Io ho fatto Anche gli effetti 3D A differenza tua Come vedi qua fuori Ci sono le bocche Di Sirenead Eh ho visto Sì 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 Beh Scusami Che effetti 3D puoi fare Sul mio A parte le orecchie Non è che ci sono molto Le bocche comunque Di Sirenead Sembrano tipo Dei piselli Di Vabbè Non dico nient'altro Insomma Fate voi insomma Tu sembri un pisello Non vedo perché Questa affermazione Così Ho capito che Hai paura di perdere Però insomma Probabilmente Si Perderai Infatti Nei commenti Scrivetemi Chi ha vinto Raga mi raccomando È importante Perché dobbiamo capire Chi ha vinto O meno Nick Vabbè Insomma Fate voi Insomma Decidete Però Sì Ma Sì 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 Allora Il giorno che potrai Dare un giudizio Sulle mie costruzioni Sarà il giorno in cui Le api Canteranno We are the world Ok We are the world Hai presente le api Sì sì Ma la vera domanda è Che cacchio sta costruendo Breed Secondo me è entrato troppo Nel personaggio E costruisce troppi piselli Guarda La prossima volta dovrei inventarti Qualcosa di nuovo Perché questo è proprio uno Particolo No vabbè È un attimo Contrare questo Quindi niente Ovviamente scrivete Non guardo Scrivete Le cose Raga Nei commenti Iscrivetevi al canale Soprattutto Lasciate like E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao